Fica è stata una bellissima esperienza e una bellissima idea, secondo me, perché ti fa conoscere tante cose che magari te non sai. Come si fabbricava la mortadella. Mangiare magari la frutta di stagione. Mi è piaciuto molto quando siamo andati a vedere gli animali. La rifarei un sacco di volte. Vorrei portare Nicole qui. Ci vorrei portare mio fratello Gabriel. I miei genitori gli direi che è stata un'esperienza fantastica. Grazie a tutti.